ciao a tutti un saluto da massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i love italo disco per la terza volta o la terza volta ma con grande piacere e devo dire con grandissimo piacere in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo signore e signori con noi raf todesco ciao raf ciao a tutti voi ciao a te massimo ormai si è diventato una b2 e che devo fare se così vuole la vita io sono qui e quindi mi do da fare da allora in pratica si vede che mi do da fare no perché pubblico seguito a pubblicare infatti siamo qui per ogni oltre uscita sei sei ripartito da qualche anno da un anno a questa parte possiamo dire sì da ottobre dell'anno scorso però avevamo già mocchiato alcune idee io e mario che abbiamo poi sviluppato e man mano che andiamo avanti faremo sentire quindi in pratica noi abbiamo già guarda dopo questa uscita e ne abbiamo altre due altre due prima del prima dell'estate è più una un'altra uscita in vinile con degli amici che mi hanno richiesto di di fare un remix di un di uno loro brano fatto molti anni fa nell'83 addirittura e quindi in pratica prima dell'estate abbiamo il tormentone estivo pronto dai no sinceramente adesso è uscito posso dirlo no no ecc no eccetera intanto lo faccio vedere ecco ecco noi io è perfetto topeco perfetto barbara lo barbara lo sarebbe barbara lorenzato esatto esatto allora in pratica topeco e l'anagramma delle nostre iniziali tedesco per calli e poi co va per company ovvero sia chi interviene nella 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 produzione in questo caso barbara lorenzato barbara lo insomma ecco hai capito com'è essere la storia com'è coinvolto barbara l'hai coinvolto perché per calli praticamente era una conoscenza di per calli perché lui è di vicenza ancora abita a vicenza e quindi lei è una vicentina e quindi è facile hai capito avere queste forme di comunione tra cantanti e lui ha una a un personale è una sale di incisione personale quindi in pratica niente fa cose molte molte cose e quindi in pratica delle collaborazioni alle volte mi propone di una qualche cantante e vabbè a proposito ecco allora io devo fare un discorso perché perché in pratica ma perché non fai dei brani con george aaron con anthony games con jimmy mcfoy con molti di quelli che hanno lavorato in passato allora io ho lavorato con troppa gente in passato per cui se dovessi come dire fare qualcosa con un cantante in particolare tocco un giorgio al di ieri giorgiano e gli altri si sentirebbero sminuiti ma perché ecco e quindi io cerco come dire ho scelto questa questa cosa di non di non fare dei brani di adesso con con la gente perché altri potrebbero offendersi visto raffa che hai decine di pezzi nel cassetto scusa uno per uno ce la coprire tutti no e vedi vedi alle volte un brano nasce con certe caratteristiche ecco vocali quindi io devo rispettare anche queste queste situazioni vocali per esempio adesso giorgiano è uscito con brano molto e di spiuzzo ecco e quindi in pratica dovrei operare in in quelle situazioni eccetera eccetera e io al momento mi trovo scoperto nell'altro elvis priests lady sono un po scoperto da ellis ma come nasceucità cioè è un.. ho visto e ho sentito che un brano molto pop pop dance un po' euro non è non è prettamente Italo Disco esatto nasce perché l'esperienza poi che è stata della Italo Disco si è poi tramutata in altre situazioni musicali e quindi io ho lavorato anche dopo la Italo Disco fino al 2000 e passa e quindi in pratica ho passato tutto dalla House al Funky alla Tecno alla Blues e quindi in pratica in pratica molte idee te le porti indietro come Fardello hai capito come situazione musicale quindi passo anche per esempio per il prossimo brano di Gigi Maini e di Vaccari che mi hanno richiesto un remix su un loro vecchio pezzo che si chiamerà Magnetic Dance 1,4 ed è l'83 Magnetic Dance bellissimo Smile si chiama il gruppo Smile io ho fatto un rifacimento con situazioni insieme con Peppe Alberti questa volta non ho lavorato con Mario perché con Mario insomma faccio delle cose nuove mentre questo qui era un rifacimento e quindi ho un DJ ma soprattutto un un artista come Peppe Alberti che fa il produttore anche abbiamo pensato di fare anche una situazione particolarmente house con mischiato con con le situazioni attuali e a me piace particolarmente quel pezzo però come direi è molto attuale ecco come come situazione ma tanto per dire che che si va da 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 Italo Disco Never Never era pura Italo Disco a questa cosa che invece anni 90 con la cassa un po' martellosa che andava negli anni anni 90 e e quindi anche a perché tutto quello che abbiamo fatto te la porti dietro certo come esperienza ma come nasce il testo di Acno l'ha fatto Barbara Lorenzato e parla del come dire del disagio tra due persone che vivono in una metropoli e che chiaramente sono in crisi ma non solamente di rapporti uomo donna o vabbè o anche misto come come avviene adesso ma soprattutto questa storia si consuma nello stress del lavoro e della vita quotidiana di una metropoli per cui il video l'ho sviluppato soprattutto in quel senso nel senso della come dire di dare una situazione di chi vive in città e quindi delle problematiche infatti il titolo dice un po' tutto in italiano è io ti conosco certo ecco esatto con tutte le problematiche che che sorgono perché effettivamente al giorno d'oggi è molto difficile conoscere una persona anche 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 nella nella situazione proprio di anni e anni alla alla fine trovi certi aspetti che sono stati da te magari trascurati e che l'altra persona invece vuole evidenziare ma fatti di Giovanna che stiamo insieme da 29 anni ogni tanto scopro qualcosa di nuovo vedi vedi sia in positivo che in negativo eh beh è così ma ma vedi io vorrei parlare solamente di questo di questo pezzo ma non particolarmente non solamente di questo pezzo ma di quello che sto facendo certo e quindi I Know è una I Know You è una situazione che è uscita adesso e che altre seguiranno in breve aspetta un attimo Raff perché mi hanno chiesto se è uscito il vinile del disco allora con tutta probabilità uscirà ma aspetto un'altra un'altra situazione con Lorenzato con Barbara Loh in modo da da avere un vinile double face hai capito a due facce con due titoli in modo da da rendere più appetibile la cosa e quindi ora lo possiamo acquistare negli store digitali store digitali per il momento ecco poi si vedrà per quanto riguarda il vinile invece è già pronosticato cioè è già programmato pronosticato programmato questa questa uscita in vinile per il mese di all'inizio di maggio di questo smile magnetic dance 1,4 che secondo me è anche abbastanza una sorpresa secondo me sai sai qual è la mania di noi di noi produttori eccetera che che il prossimo è migliore di quello precedente di quello che hai fatto hai capito e questa cosa qui invece per la gente comune non lo è risponde in maniera diversa per esempio io vedo che ho fatto appena fatto le newsletter e le risponde poste già denotano che molte radio molte radio italo disco non programmano I know you perché è una situazione musicale diversa hai capito cioè non è che 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 quello che tu fai come dire corrisponde a una tipologia di una radio internazionale ogni ogni radio ha la sua caratteristica come come noi produttori noi autori abbiamo le nostre caratteristiche quindi ecco allora mi dicevi no di non parlare solamente di di acno ovviamente ma di parlare anche di altro perché te mi avevi scritto l'altra volta quando ti ho contattato per fissare questa puntata alcune situazioni da affrontare allora vai vai carta bianca allora in pratica tutto il mondo musicale è in crisi a partire dai dj a partire dalle dalle vendite a partire dalle situazioni come dire che uno si aspetta della propria dell'opera che che compone la crisi è venuta a maturare man mano e progressivamente per molte situazioni concomitanti e soprattutto adesso come risultato finale siamo che il produttore non guadagna più un tubo il produttore di una di una sua opera non guadagna più il dj il dj trova tutto un campo di improvvisati che sono entrati nel suo settore nel suo settore hanno scombinato come dire il prezzo della prestazione e quindi in pratica si è a un limite estremo per cui molti rinunciano molti di quelli anche molto bravi ritengono inutile continuare a fare qualche cosa e quindi c'è uno come dire uno scoramento molto evidente in Italia soprattutto anche perché noi siamo stati come dire molto individualisti nelle situazioni come dire musicali eccetera molto individualisti e quindi i dj sono non hanno un'associazione che li protegge non hanno ecco tutto l'insieme in pratica è così è venuto è venuto a a comparire con con maleficio estremo in tutti i settori allora io pensavo io ho sempre pensato che la musica costa la musica deve costare non costa deve costare perché se non se non costa vuol dire che nessuno di coloro che che operano nel campo musicale guadagnano e questo come dire fa come dire scomparire fa anche crea una situazione di di disagio come di vita di vita perché se tu hai sempre fatto il il dj e improvvisamente ti trovi di non contare più niente dopo un po' di anni riesco a capire che uno può anche cambiare il corso della propria vita trovando alternative eccetera comunque il dj che ha un nome vedo che sono richiesti ma sono pochissimi sono pochissimi cioè tu devi pensare che un dj una volta aveva ogni discoteca aveva un dj resident eccetera eccetera e il dj resident viveva viveva dei proventi della discoteca attualmente è più impossibile ma non è più possibile è anche questo è maggiormente in come dire in ritorno anche a chi produce perché chi produce non può aspettarsi granché da spotify da youtube perché lo 0,0001 no ci vogliono milioni di visualizzazioni perché un milione di visualizzazioni su youtube porta 1000 euro un milione di di ascolti di ascolti Spotify o su altri è sempre la stessa cifra 1000 euro e quindi come devi fare per avere una una situazione che era quella che con cui noi siamo nati bisogna per dire avere 10 milioni di visualizzazioni per avere 10.000 10.000 euro no 10.000 euro una volta noi nelle lire con mille con mille lire che Lombardoni o chi per esso distributore tirava facevi cioè praticamente diventavano 10.000 milioni e nella nella situazione di allora potevi quasi avere un quarto di appartamento nella situazione di adesso con 10.000 euro non compri neanche una colonna no che poi 10.000 euro poi vengono suddivise anche da tutti voi in senso certo c'è c'è l'edizione ci sono gli autori che sono due tre eccetera eccetera certo allora allora in pratica è finito il fondamento della della musica perché se la se la musica non non ti fa guadagnare devi devi assolutamente trovare una soluzione o non fai musica o non fai soluzioni ci sarebbero secondo te allora è difficile trovare una soluzione perché perché quello che 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 è stato il passato non può ritornare certo l'evoluzione ha portato cambiato ecco ha portato a finire il vinile la fine del vinile e ha portato allo streaming allora la situazione vabbè è proprio dei nostri giorni la situazione di facebook con la siae di blocco di tanti brani ma sì perché perché la siae diceva tu mi ci devi pagare di più e facebook ha detto no io non vi pagati più ecco e quindi in pratica si ritorna che l'artista l'artista se così lo vogliamo chiamare no si ritrova in un fatto economico perché la musica non costa la situazione di produzione attuale della musica è gratis in pratica tu vai su youtube vai su spotify ascolti il pezzo e chi te lo fa fare a a cliccare o a o a pagare di più ce l'hai gratis l'unico è ritorno al vinile ecco allora io il punto è quello il punto è andare a fare un'operazione proprio mediatica di ritorno di ritorno al vinile perché se io aspetta Raff per darti anche ragione su quest'idea quando io vado nelle fiere del vinile dell'usato ok perché le frequento qui nella zona la Firenze eccetera io ti farei vedere quante persone c'è ma la cosa bella nell'ultima fiera del vinile di poco tempo fa ho visto i ragazzi di 17 18 anni ma anche 15 anni a acquistare vinile con il genitore perché tocca tocca qualche cosa possiamo partire da questo punto che penso sia fondamentale per capire come guadagnare qualcosina ok sì sì esatto in pratica in pratica perché sono andato su questo discorso Massimo lo sai perché sì perché il vinile il vinile costa però chi ha due lire faccia il vinile perché solamente così si può ripristinare il fatto musicale che ha un valore che è un valore proprio tangibile perché alla fine è inutile non vivi solidaria noi dobbiamo venderle tante vinile perché i vostri sono enormi ma vedi attualmente chi fa vinile non fa o fa vecchie cose di ripristino tipo le orme l'epopea delle orme eccetera cioè di chi ha fatto musica ma non fa le cose nuove non fa no 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 e chi fa chi fa qualche serata io te lo disco no avvinili riguardanti riguardanti il mercato che dicevi tu di vecchie cose ma non ha situazioni nuove sì nuove ecco e io per esempio io sono stato con Gigi Maile con Vacari da Lombardoni da Vittorio Lombardoni e e abbiamo deciso di 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 cominciare una situazione come dire nuova ecco per quanto riguarda io per esempio quest'anno prevedo già di uscire con tre con tre vinili già questo qui che uscirà ai primi di di maggio poi ho scoperto ho scoperto un brano veramente di 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 come dire di carattere positivo io un mio vecchio brano che non è stato mai pubblicato che è stato pubblicato in una in una veste ma non in una soluzione finale infatti il brano perché io non non sono contrario a remix perché i remix sono un alterna come dire una soppressione del precedente con una nuova veste e io rispetto molto coloro che che lavorano con me nel fare musica e quindi non ho mai accettato il fatto di fare i remix cerco di 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 evitare questo fatto questo brano che vi farò sentire nei prossimi nel prossimo mese questo praticamente è un brano incompleto è del 1999 è incompleto nel senso che praticamente c'è la struttura cantata è di base ma non ha degli sviluppi come dire armonici strumentali come dire molto chiari e c'è una 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 parte cantata e e in pratica la l'arrangiamento può essere modificato in 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 molti in molti secondo molte idee per cui quel quel brano lì ho deciso è il mio di percali ho deciso di di dare di fare molti remix molti remix di un brano quindi incompleto sarà fatto in vinile sarà fatto in vinile con le 4-5 brane 4-4-5 remix che 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 svilupperanno alcuni quelli che credono per cui è un'altra situazione di 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 quel discorso lì in vinile che di cui parlavamo ma per guadagnare qualcosa quanti vinili bisogna vendere allora cioè in senso uno è bene si impegna a fare il vinile no però alla fine certo certo allora in pratica non per uno che che adesso si ci menta a a a fare vinile praticamente va incontro a una spesa che va che supera i 1500 euro per 200 coppie 300 coppie dalle due man mano che si sale evidentemente sale anche il prezzo se uno vuole 500 costerà circa 2.500 e 5 per dire ecco due non è tanto non è tanto il fatto il fatto del 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 brano cioè del vinile che ti fa guadagnare ma se i dj se tutti i dj di una di una certa classe di una certa funzionalità avranno questi mix da mettere c'è anche una corrispondizione in quanto alle serate eccetera eccetera anche all'artista eccetera per cui io non posso fare la rivoluzione da solo hai capito devono essere tutto un insieme di cose che concorrono al a fare questa cosa io io cosa cosa faccio faccio di 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 mio dei vinili però dei vinili spero che altri mi seguiranno spero che altri in modo da creare una situazione in vinile che vuol dire non più il tasto che premi la chiavetta che infili eccetera ma la bravura del dj poi starà a molte altre cose per cui bisogna ripristinare un po' le funzionalità che aveva una volta la discoteca o che aveva il dj il produttore il musicista cioè tutto un insieme se non si ritorna se ritorna a fare a a creare qualche cosa che costa nella musica non si risolve assolutamente niente dove andiamo con la musica gratis da nessuna altra parte quindi la soluzione sarebbe il vinile con i dj che 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 anche loro aiutano questo progetto questo progetto in quanto sono coinvolti nella situazione della discoteca e di quindi del mixare e di quindi io ho visto dei dj incredibili che fanno spettacolo da solo tipo killer faber e magari una situazione in una situazione tecno però quello che cioè è uno spettacolo a vedere mixare hai capito qualcosa sono d'accordo è uno spettacolo cioè il dj fa spettacolo non fa non so se mi hai capito non mostra il seno dai siamo arrivati a cose pietose si ma te considera che c'è un altro fatto che le discoteche non sono più come una volta cioè ce ne sono meno questo è un altro fattore secondo me che dobbiamo considerare perché un conto ma chi ti dice che in futuro prima ce n'era 100 adesso ce n'è 10 ma chi ti dice che in futuro non cambi anche questa forma di aggregazione perché questa forma di comunione di intenti che era un po' la discoteca no in cui uno creava amicizie gruppi creavano amicizie adesso non esistono più perché perché si va a mangiare o a fare lo spizzichino queste cose qui e poi ti metti mettono ti pompotano un po' di musica eccetera non ha più senso non ha più senso una volta i denaro o qualsiasi altra cosa avevano una voglia di dimostrare di saper ballare e quindi e quindi ma tantissime volte io ho visto dei ballerini bravissimi sconosciuti non di nome e che come dire sentendo la musica avevano voglia e quindi facevano spettacolo ballando questo non avviene più non avviene più ormai e siamo ridotti ai minimi termini o quindi o cancelliamo tutto oppure si cerca ognuno nel loro picco di fare qualche cosa io come ho detto come produttore 2-3 3 minimo vinili all'anno tamperò me ne frego se se uno venderà 200 copie e l'altro ne venderà io spero poi che tutta Europa magari segua comunque Raph voglio fare una riflessione anche con te io te la voglio far fare allora ti faccio un esempio nel gruppo facebook Teatro Disco Fan quello creato da me un anno e quattro mesi fa ci sono circa 2600 iscritti allora 2600 iscritti significa che guardandola in positivo ci sarebbe 2600 persone che potrebbero acquistare un vinile a testa no? ok? perché in quel gruppo lì ci sono appassionati che amano la musica dance è ovvio che non è così mettiamo un 50% diciamo che 1200 1300 persone acquistano un vinile e parliamo di un mercato l'80% italiano allora io mi domando perché noi non acquistiamo o meglio mettiamo che ci sia perché insomma stanno uscendo un po' di vinili qualche artista vedo come Graziano ha fatto il vinile che ne so dimmi quanti vabbè non lo so insomma ti dici dimmi quanti la quantità stampata? no dimmi quanti quanti artisti tipo Graziano hanno fatto ci saranno tre o quattro tre o quattro cosa vuoi fare con tre o quattro? no no ma allora il punto è questo allora il potenziale di vendita è enorme considerando che soltanto quel gruppo mio faccio per i posti persone che ascoltano musica cioè significa potenziale acquirenti mettiamo un mercato europeo ma anche sudamericano o centroamericano che forse è il mercato che tira di più nell'acquisto di un vinile della dance italiana allora il punto come dici te la partenza è cos'è? che il vinile deve ritornare in modo massiccio che ci deve essere un costo adeguato alle nostre tasche perché oggi come oggi non posso andare su disco GS e comprare un usato attuale di dance che mi costa 25 euro o comprare un disco nuovo io ogni tanto compro qualcosa di musica classica addirittura che me lo fanno pagare 35 euro no il vinile deve costare 10 dai 10 ai 15 euro però il problema è un altro lo sai meglio di me però lo voglio dire pubblicamente che i costi della stampa sono aumentati non c'è un controllo adeguato sul vinile io ho comprato alcuni vinili recentemente che si sentivano da schifo perché si lavora con un metodo arcaico perché fare i vinile è un metodo capito degli anni no vabbè ma lì dipende dipende anche da chi fabbrica la metodologia è quella c'è un manuale proprio manuale dove i controlli per abbassare i costi sono ridotti al minimo questo significa che noi acquirenti ti parlo proprio di noi eh se sei produttore fai il vinile io sono Massimo che acquisti il vinile io vorrei un prodotto abbordabile per le mie tasche un prodotto di qualità non dozzinale ok significa un prodotto a buon prezzo ma che sia anche curato sia a livello sonoro ma anche a livello di grafica con qualche inserto dentro che mi dà valore a quello che acquisto visto che eh i vinili ce ne sono pochi a giro quello che acquisto vorrei che sia non dozzinale buttato lì per fare cassa ma un qualcosa che poi diventa anche da collezione cioè se te mi fai un vinile di Acno ti faccio un esempio mettiamo un vinile colorato io lo pago anche 5 euro in più eh che mi metti un inserto con il testo con qualche foto dietro le quinte lo studio ok me lo fai anche che ne so prima tiratura limitata perché ti allego un gadget io penso che questo è la forza perché adesso le persone che vanno ad acquistare musica è perché sentono in bisogno acquistare un oggetto da collezione altrimenti lo scarico gratis sì esatto adesso il vinile è da collezione io vorrei creare una situazione cioè se altri facessero come come farò io se altri e quindi un altro cioè hai un mercato di 30 40 vinili di musica buona la mia è buona certo il top no c'è hai capito che che crei una un come dire un fuoco su cui puoi alimentare portare legna creare ma soprattutto questo deve avvenire attraverso attraverso dei dj che devono suonare in vinile perché altrimenti la loro la loro situazione sarà la fine la fine perché la chiavetta ormai è di passi e la usa anche la mia nipote esatto e quindi è inutile abbiamo usato il matrimonio e poi spampottare quanto vuoi cioè puoi spampottare quanto vuoi ma guarda noi facciamo la nostra parte da appassionati perché lo vedo quanti 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 appassionati postano il proprio vinile però quello che vedo da parte vostra te lo dico intanto non ci ascolta nessuno è che c'è molto cioè non c'è neanche la voglia di dire aspetta facciamo promozione sfruttiamo i fan e facendo promozione sfruttiamo facendo facciamo vedere in mano facciamo vedere in mano facciamo vedere che c'è un gadget facciamo una promozione e i primi cento che chiamano che contattano me contattano tenso ma quello che sarà hanno una penna firmata raftodesk in omar cioè questo è secondo me oggi come oggi uscire dalla massa e poter fare un qualcosa di accattivante per tutti noi altrimenti sì cosa credi che sia finile sì io poi io vado su internet me lo scarico buonanotte cosa credi che io stia facendo adesso parlando di questa di questa situazione con te sto facendo la mia promozione la promozione dei dj che vogliono lavorare come dio comanda hai capito d'accordo ecco dando anche un significato a quello che fanno altrimenti se si è se tutti si arrendono io ho 78 anni dovrei arrendermi prima cioè dovrei essere arreso da 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 milenni hai capito ecco e invece sono qui a combattere per le per la situazione anche di altri ma perché mi va bene perché è così perché la musica deve costare perché la musica deve avere un valore non può finire nella meraviglia ragazza hai capito ecco nel fondo di un valore ma io amante del vinile io appoggio completamente la tua cosa guarda io faccio anche dei video dove faccio vedere i miei vinili che ho comprato gli do importanza cioè faccio respirare un attimino quello che è l'aria di un qualcosa di vecchio ma di nuovo nello stesso tempo cioè la famosa diciamo l'azione di poter fare un unboxing cioè aprire un vinile metterlo sul piatto ascoltarlo cioè sono una prassi cerimoniale che dobbiamo promuovere totalmente dobbiamo promuovere ma dobbiamo martellare far vedere e soprattutto ripeto per la mia modesto parere perché da appassionato dare un prodotto che dà un qualcosa da collezionare ecco quello è cioè io sto guarda domani acquisterò e io non posso farlo perché non è che viviamo nell'oro cioè io sono appassionato di colonne sonore c'è un disco di un film che io sto guardando su Amazon parlo di Amazon perché lo trovo soltanto lì che costa 38 euro e sto guardando lì ma lo compro perché è edizione limitata c'è un picture disc c'è un regalo c'è una cartolina ok autografata dal regista è una stampa va bene però c'è allora cosa voglio dire vedi lo compriamo conosco la musica la conosco a memoria di quel film ok lo ascolterò no lo compro lo metto in collezione lo ascolto lo metto ma perché perché è un picture disc perché c'è la cartolina firmata però costa 38 euro e 90 una cosa del genere cioè costa non può non può costare così tanto però si acquista e ne vendono migliaia in tutto il mondo migliaia e migliaia di quella io Massimo cioè Massimo allora quello che che mi stai dicendo è una forma anche di collezionismo ma io voglio andare oltre il collezionismo hai capito è ovvio che è l'uso della musica è l'uso della musica ma dobbiamo partire da un presupposto è ovvio che io non facendo il dj non la posso non posso mettere il vinile o la chiavetta perché non faccio il dj allora noi acquirenti acquistiamo il vinile il dj deve capire se vuoi dare un futuro a tutto quello che è il comparto dj di utilizzare un vinile ma deve anche fare una lotta deve fare anche una lotta con i gestori con chi io sono in grado di fare spettacolo io sono in grado di soddisfare guarda neanche farla apposta Raff io sono in un gruppo di Riccardo Cioni su Whatsapp da qualche mese e praticamente oggi uno ha fatto proprio un post parlando dei dj con la chiavetta e ha fatto un putiferio pauroso hanno messo 100 messaggi oggi l'ho letto qualcuna e c'è proprio la voglia di distinguersi cioè c'è la voglia lo percepisco dal nulla cosa vuoi più in giù di così cos'è cosa c'è però abbiamo i ragazzi giovani che sono abituati alla modernità di un cellulare e mandano musica in disco sega col cellulare ci siamo noi vecchiotti che abbiamo qualche capello bianco e che tante volte non abbiamo neanche più voglia di lottare perché i vecchi dj per non male hanno da 50 anni in su allora cosa voglio dire io che la rassegnazione non ci deve mai essere nella musica perché io penso che come te ci saranno anche altre centinaia di persone che credono in questo io sono sicuro allora dobbiamo io questo video deve essere divulgato totalmente da domattina l'ha divulgato a tutti in tutte le piattaforme di gruppi di appassionati di artisti perché è importante far capire questa cosa a tutti allora io per quello che posso fare a 78 anni lo faccio farò vinili farò vinili ecco quest'anno minimo per quanto rimane dell'anno minimo saranno tre e quindi in pratica poi finiranno dove non lo so ma credo che sia l'unica soluzione per uscire dal ghetto altrimenti tutti si sentiranno miseri e la miseria tu sai benissimo crea solamente altra miseria perché è una fabbrica la miseria ecco e la musica è diventata miseria ecco allora per uscire c'è solamente una cosa io quando ho cominciato mi sono fatto dare dei miei sei milioni e li ho impiegati nel fare un vinile non so se mi hai capito sei milioni erano già qualche cosa nell'ottanta ecco e quindi in pratica ho rischiato tutto me stesso non lo so se hai capito cioè in pratica la voglia mia di riuscire a fare era talmente forte che ho superato anche il fatto di poter perdere i soldi adesso io faccio vinili perderò non vado in miseria tranquillo che non vado in miseria vale vale ci fa i pari dai non ci perde ma sì ma quello è poco ma sicuro però in ogni caso in ogni caso quello che voglio il mio discorso è questo è di creare una una ribellione da parte di chi fa musica a partire da chi produce che non guadagna più niente a partire dai dj che non guadagnano più niente a partire dalle discoteche che non guadagnano che non ci sono più ma vabbè può darsi che anche questo fattore non ci sono neanche più negozi di dischi vero è tutto virtuale ormai la cosa qualcuno qualcuno c'è ma sì ma perché vende anche il giradischi perché vende l'altoparlante perché vende questa questa affare qui che microfono certo che ho io hai capito ecco per cui c'è tutta un'alimentazione diversa da Nareccia che crea il fatto che qualcuno esiste ancora ma il negozio di dischi che c'era una volta che andava dal blues dal rock al c'è rimasto qualcosa non esiste più ecco solamente i venditori per collezionismo eccetera tutte queste cose qui allora se c'è ancora una possibilità di uscire dal ghetto cerchiamo di uscire io faccio la mia parte spero che anche altri facciano la loro parte nient'altro comunque io chiedo questo il messaggio l'hai mandato penso insomma la musica non può costare niente non può non far guadagnare altrimenti poi si perde anche la qualità perché uno dice no non guadagno niente io con computerino faccio il mio pezzo copio copio infatti tutti i cover tutti i cover adesso vabbè dai penso di aver affrontato degli argomenti molto importanti sì come hai capito non ho voluto parlare molto di questa uscita di mia di percale ne abbiamo parlato all'inizio va bene ecco sì però ecco quell'argomento principale l'argomento principale ci tenevo anche io è questo perché così potrete creare a molti altri di fare brani possibilmente più belli di ecnoio hai capito se no altrimenti andremo andremo a fondo andremo a fondo a proposito un'altra do un'altra notizia così aspettatevi una una cosa un pochettina strana da parte mia di percalli per l'estate che secondo me è proprio fuori dalla mi sono innamorato di Giorgio Amoroder e quindi in pratica allora fuori d'artificio ritorno ritorno alle origini di quella che è stata la musica da cui siamo nati e quindi perché siamo nati col synth in pratica bello il synth è stata la rivoluzione dell'attuale musica poi si è perso e ritorniamo proprio alle origini e credo che sia una cosa giusta quella che abbiamo fatto io e Mario soprattutto Mario soprattutto Mario beh dai staremo a sentire ecco io ho lanciato il mio messaggio confuso forse no 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 anzi molto chiaro cioè io faccio la mia parte faccio la mia parte non mi interessa quanti quanto acquisteranno i miei vinili o quello che farò però li farò in ogni caso e parte quindi la storia di un 78enne hai capito bello che ha un avvenire ti ammiro tantissimo Raffa va beh sto riscoprendo una persona dopo il brutto momento della tua vita di qualche anno fa con un'energia incredibile ma guarda chi chi mi ha conosciuto credo che mi abbia conosciuto soprattutto per una forza di volontà incredibile perché cioè quando ho voluto fare una cosa io sono riuscito a farla questo è perché sei determinato tutto te stesso ed è determinato a un fine ecco questo è stato il mio inizio e a 78 anni ho ancora un altro inizio hai capito incredibile ti voglio bene Raff sei un grande sei un grande dai Raff salutiamo i nostri ascoltatori spero di spero di non avervi tediato più di tanto ma con Massimo poi è anche è un piacere parlare e soprattutto è un piacere parlare di musica ecco a tutti voi quindi tutto il bene possibile e tutta tutta la bella musica possibile sicuramente dai viva il vinile viva il vinile viva il vinile è l'unica via d'uscita lo dirò fino alla fine è l'unica via d'uscita bene Raff ti ringrazio per il tuo tempo ringrazio tutti voi gli amici gli amici vi aspetto tutta la prossima chiacchierata e devo devo solamente congratularmi con te perché hai finalmente fatto la scelta della tua vita diciamola a tutti sono sposato domenica 19 marzo con Giovanna ti aspettavo dopo 29 anni ti aspettavo da una vita 29 anni sono tempi dopo 29 anni ci siamo riusciti va bene ok grazie grazie veramente un grosso abbraccio a tutti un bacione ciao bacione a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti I always smile and appreciate, I know you I always smile and hope It's burning in silence I feel upset Lullaby and singing It's just a flower on your way to live with you Waking up in the dawning Tasting something I need While you're trying your tears I just feel that you can't I know you, I always smile and appreciate I know you, I always smile and appreciate I know you, I always smile and hope We're walking through the stars And I'm still in the fire That's why I'm burning to sleep To feel alive We're walking through the dark And I'm still in the fire That's why I'm burning to sleep Really loud We're here We're here We're here Wow We're here We're here We're here We're here Wow Sous-titrage ST' 501 ...